Buongiorno a tutti e finalmente eccoci dopo una buona giornata di trading data da questo swing violato nei tempi corretti, ovvero quello a 23.289 dato ieri per l'inverso, che ci ha portato a fare questa magnifica salita e che ci ha portato quassù ad arrivare a 23.730 e questa mattina ad aggiornare leggermente i massimi. Facciamo di nuovo una bella panoramica di mercato per vedere a che punto siamo arrivati? Allora, come detto nell'analisi di ieri sera, che spero abbiate sentito la piccola live, anzi pomeriggio, vorrei farvi notare che da questo massimo a questo massimo siamo arrivati a 42 e con oggi 43 eventualmente barre e che questo è un termine massimo anche per un mensile inverso. Da qui può iniziare a partire, ovvero una discesa, a meno che non ci sia stata qui un'altra partenza di altro tp2 inverso. Perché parlo subito di questa cosa, ovvero di un mensile inverso che si può essere chiuso qua, al termine di un semestrale inverso e quindi in chiusura probabile di un annuale inverso? Proprio perché se si è chiuso appunto l'annuale inverso possiamo avere poi la spinta dicensiva che mi aspettavo da dopo la metà di febbraio, eventualmente da inizio marzo. E noi siamo a inizio marzo. E peraltro dalla metà di febbraio abbiamo fatto questa roba qua, che è stata lateralità e tante finte. Per cui, scendiamo nel dettaglio. Questa è la centratura ciclica con il quarto t settimanale iniziato su questo minimo, teoricamente. Anche se ci sarebbe ancora lo spazio, viste le finte fatte, per avere un settimo ottavo, un nono t meno tre, ma iniziamo a prenderci questo genere di centratura. e ragioniamo su dove siamo. L'ottavo t meno tre inverso al massimo può durare 44 barre, quindi se dalle 9.15, da dopo le 9.15 non inizieremo a scendere, bisognerà pensare che appunto da qui sia partito un nono t meno tre inverso che è già completamente vincolato a ribasso, ovvero rialzo per quanto riguarda l'indice, perché se è l'inverso ribasso l'indice è a rialzo, e in questo caso, se appunto continueremo ad aggiornare i massimi dopo la candela nelle 9.15, potremmo andare di nuovo long, non per tantissimo, per arrivare a un minimo di 24 barre, però appunto questa sarebbe una cosa, un'informazione già utile che possiamo andarci a prendere e che possiamo inserire con un campanello d'allarme qua sopra. Teniamo anche conto di un'altra cosa però, come al solito, che parliamo sempre di inverso perché in anticipo, ma se guardiamo l'indice, qui non può avere chiuso un ciclo a 20 barre, qui non può avere chiuso niente, qui difficile, molto difficile, abbiamo comunque anche il limite temporale delle 35 di indice stesso, come detto, ovvero al massimo si può arrivare a 44 barre, ma come vedete, essendo l'ottavo t-3 inverso più avanti, eduo può ragionare appunto con un ciclo che al massimo può fare ancora una barra a rialzo, e poi eventualmente se non fosse partito il nono t-3 inverso, avremo il basso. Viceversa, dal nono potremmo andare long. Spero che questo discorso vi sia chiaro perché viceversa vi conviene chiedermi degli appunti gratuiti che distribuisco a tutti e che sono stati distribuiti all'epoca anche a me, sulla ciclo che ho avuto in modo da comprendere più semplicemente nozioni che sono base, come queste. Per quanto riguarda appunto le candele giornaliere, abbiamo detto che anche in questo caso oggi è un giorno importante per capire se questo effettivamente è stato o è l'ultimo mensile inverso, da questo massimo a questo massimo, dell'annuale che è partito da qua, e se si può poi iniziare a scendere per avere una chiusura appunto di annuale anche di indice, e quindi iniziare la discesa di cui vi parlo dall'analisi del 3 di gennaio. Per quanto riguarda il DAX, situazione molto simile, apertura differente, abbiamo che qui non è partito nessun nono t-3 inverso e che quindi dal massimo assoluto può iniziare appunto una discesa che può far partire non soltanto un ottavo, un nono t-3 inverso, ma anche qualche cosina di più. Non abbiamo swing di base, ma sappiamo che come minimo, anzi che la condizione minima per la chiusura del secondo t-3, qui ce l'abbiamo già. E siamo già in 35esima barra, quindi attenzione che potrebbe fare giù e poi di nuovo su. Quindi sapete perfettamente che le prime candele sono le più difficili da tradare perché dopo che avremo la chiusura della prima candela delle 9.15, chi lo sa se non ritorneremo teoricamente già sui massimi. Qui abbiamo tutte le condizioni già fatte per la chiusura del secondo t-3. Anche in questo caso, guardate che roba, con una singola candela siamo andati a fosse chiudere il quarto t-2 inverso, quarto mensile inverso, di un ciclo completo semestrale, 129 barre, e quindi ci approssimiamo a quelle che possono essere le due cose che possono capitare dopo la chiusura di un annuale inverso, che prevederebbe comunque a meno di classico raccordo inverso, spinta poi appunto verso il basso per la chiusura appunto anche dell'annuale di indice. Ed eccoci qua, se avete guardato il Nasdaq, a me hanno, tra virgolette, costretto a farlo qualche giorno fa, sapete che stiamo già probabilmente andando in chiusura di annuale e anche in questo caso il rimbalzo che hanno fatto i due mercati ieri europei, DAX e Nib, non ha avuto questo gran riscontro nella realtà di fatti sull'americano. A parte questa roba qua che sarà da correggere e da controllare, sappiamo che anche in questo caso abbiamo tutte le condizioni, anzi la condizione minima, tranquilla, sufficiente per la chiusura dell'annuale inverso anche in questo caso, e che non riusciamo a creare un massimo superiore ai massimi precedenti, abbiamo soltanto massimi decrescenti e quindi che continuano a scendere e ci basta, ci basterebbe scendere sotto questo minimo a 3694 per andare a chiudere l'annuale. Il mensile, peraltro, è ancora capiente, ovvero, è vero che abbiamo avuto questo rimbalzo e bisognerà capire oggi che cosa andranno a fare perché potranno andare a fare tutto quello che vogliono, ma qui abbiamo proprio solo 23 barre e non 24 e nella realtà di fatti potendo arrivare a 44 se non aggiornassero appunto massimi o altro entro le 44 barre si potrebbe andare a chiudere e andando qui sotto avremo effettivamente la chiusura proprio la condizione della chiusura peraltro dell'annuale. Quindi attenzione, ricordiamoci altrettutto che qui in tempi non sospetti avevo dato un livello senza tener conto dell'ultimo massimo ma avevo dato un livello ottimale di ritrasciamento attorno al 15-20% per la chiusura dell'annuale stesso. Stessa cosa dicersi appunto per DAX anche qui senza avere l'ultimo massimo identica cosa per il MIB senza avere ovviamente questi ultimi due massimi. Per cui per oggi mi raccomando fate attenzione bisogna capire se si può iniziare a prendere uno short per la chiusura appunto del mensile o se vogliono ancora prendersi l'ultima candela possibile di rialzo e poi vedremo finalmente se si inizia con una serie di scesa. Mi raccomando se alcune cose del video non sono chiare chiedetemi tranquillamente informazioni sono un pochino dappertutto nel vasto web e vi auguro sicuramente una splendida giornata e mi auguro che lo sia proprio per tutti perché io la voglio per me. Buona giornata!